E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente nel primo video nella nuova postazione Diciamo che ho creato questa postazione un po' per editing, un po' come zona riprese Perché ha una caratteristica, finalmente ho una doppia inquadratura come si deve Perché sono riuscito a piazzare una fotocamera esattamente parallela a questo tavolo Meglio che incrocia perpendicolarmente quello che c'è sopra il tavolo Sono felicissimo, è da mesi che ci lavoro e questo è anche un po' il motivo di questa poca costanza e perseveranza nel pubblicare i video E tutti voi direte alla faccia ci hai messo un mese per appiccicare una fotocamera che stia sopra un tavolo Sì ragazzi non è così facile perché infatti questo generalmente sarà il nuovo setup degli unboxing e prime impressioni Direte anche voi effettivamente non è cambiato molto da quello vecchio perché prima il tavolino era più basso Quindi riuscivo a fare una ripresa dall'alto anche senza questa asta orizzontale Quindi in realtà visivamente per voi non sarà cambiato nulla È cambiato per me molto però perché prima dovevo stare piegato come un gorilla e la mia schiena ne risentirà di questo Detto questo voglio inaugurare subito questo nuovo setup per parlarvi di un accessorio che avevo in casa da boh tre mesi Però mi son detto lo voglio aprire quando avrò il setup degli unboxing completo Ma detto questo non perdiamo tempo Come vi ho detto questa è anche una nuova postazione da editing E per una buona postazione da editing ci vuole un buon mouse da editing Ora nella mia breve vita visto che per molti appassionati di tecnologia io sono anche giovane Ed effettivamente è così ho provato praticamente ogni tipo di mouse in commercio Dal mio fidato Logitech MX Master per un breve periodo ho anche provato la MX Master 2 Che è tutt'oggi il mouse principale che uso per editing e per produttività per qualsiasi cosa Insomma lo uso sempre nella mia macchina principale Mi capita quotidianamente di utilizzare e apprezzare il mouse di Apple Che per editing ovviamente da usare sul sistema operativo Apple con tutte le gesture che ha Non mi ci sono mai trovato male a parte che per il gaming e a parte per il suo metodo di ricarica poco comodo diciamo E addirittura quando ero molto piccolo utilizzavo questo Perché vi ho portato quello che è un vecchissimo mouse peraltro sempre della Logitech Questo ragazzi non è un video sponsorizzato ve lo giuro Questo mouse che ha ancora il vecchissimo attacco ai tempi di USB non c'erano È un cosiddetto mouse con trackball Cosa significa con trackball? Beh che come potete vedere ai tempi i mouse erano fatti così Ovvero c'era questa piccola palla sul retro del mouse Noi scorrendolo sul tavolo muovevamo questa pallina E in base a come si muoveva questa pallina si muoveva anche la freccia sul nostro desktop Successivamente tutti i mouse moderni sono stati fatti con un lettore laser Quindi un puntatore laser molto più preciso E in base a dove punta il laser e come spostiamo il mouse sulla superficie si sposta anche la freccettina Però per molti la trackball appunto questa palla aveva un fascino E Logitech ha ben pensato di riportare un mouse a trackball L'MX Ergo Possiamo quindi procedere con l'unboxing Prodotto della Logitech sempre molto raffinato in questa sorta di teca Nella parte sinistra abbiamo tutta una serie di dettagli Ci invita a scaricare il software ufficiale di Logitech Ovviamente la cosa interessante è sulla parte destra Visto che c'è il prodotto vero e proprio Prodotto vero e proprio che non so come faremo ad aprire Ecco a cosa servono le spillettine per l'iPhone E si toglie senza troppi problemi Nella confezione è rimasto il libretto di istruzioni Che attualmente non ci serve E spero che non ci serva mai Perché qui abbiamo la vera star Il Logitech MX Ergo Eccolo qua Attenzione ragazzi C'è uno spellicolamento anche per Logitech Ah non mi ha dato tutta questa soddisfazione E attenzione c'è anche una didascalia Che ci mostra come utilizzare questo mouse Ma non vi faccio spoiler perché ve lo farò vedere io Come potete vedere la superficie di questo mouse È perfettamente piatta Peraltro molto liscia molto bella Questo perché questo mouse non si muoverà sul tavolo Cioè se io lo muovo A parte che è molto difficile muoverlo Perché appunto sotto c'è questo cuscinetto antiattrito Ma non succederà niente anche se lo muoviamo Perché sotto non ha un dispositivo Che gli permetta di capire dove lo stiamo muovendo Perché il dispositivo in questione è stato spostato sul lato sinistro Ed è questa piccola trackball Questo è come noi comanderemo la freccia del computer Eh lo so ragazzi Molti di voi resteranno scioccati Ma io ho molta fiducia in questo nuovo vecchio modo di usare il mouse Perché in realtà negli anni 2000 All'inizio degli anni 2000 Era molto popolare questo tipo di mouse Che poi è caduto nel dimenticatoio Ovviamente all'interno della confezione abbiamo il classico ricevitore di Logitech Lo mettiamo qui Anche se questo mouse ha una peculiarità Supporta fino a due computer contemporaneamente E poi ovviamente abbiamo il cavo della ricarica Banalissimo cavo micro usb usb Che si dovrà collegare in questa parte del mouse Qualora dovesse scaricarsi I tempi dicono che con una ricarica massima Durerà fino a quattro mesi di utilizzo E quando si scaricherà completamente Con una ricarica di un solo minuto Vi durerà un giorno intero Quindi perfetto Ma prima di passare una prova pratica Visto che non vedo l'ora Vediamo un po' le caratteristiche Come è formato questo mouse Una cosa molto interessante È questo piedino Che vi ho fatto vedere prima sul retro Che si sporcherà come niente Però in realtà è un vero e proprio magnete State attenti alle dita ragazzi Perché è un magnete molto forte È calamitato Touchi tua E se riposizionato correttamente Quello che permette di fare È inclinare il mouse Infatti se voi ci fate caso Qui c'è uno spessore Se voi fate così Automaticamente il mouse diventa Praticamente verticale Ed è molto comodo Perché così davanti a noi ci sarà solo la trackball E poi con le solite due dita Premeremo tasto destro e tasto sinistro Lo voglio provare direttamente così Vediamo se avete capito L'utilizzo di questo mouse Questo mouse è pensato soprattutto in mobilità Mi viene in mente per esempio In un vagone treno Dove c'è quel piccolissimo tavolino Dove ci sta a malapena il mio portatile Beh ovviamente non abbiamo molto spazio di movimento del mouse Quindi avremo un mouse fermo Sempre nella solita posizione Che muoveremo con la trackball Ma non perdiamo tempo Mettiamo da parte il mouse Facciamo entrare la vera mascotte della situazione Come potete vedere sta a malapena nell'inquadratura Quindi ecco facciamo proprio finta Contestualizziamo Io sono in un posto molto ristretto Ho pochissimo spazio Collego il mouse al Mac Ah 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 Il design dell'Apple Ogni tanto Quali compromessi ti fa fare? Dicevo Colleghiamo il mouse al laptop E vediamo un po' quali sono le primissime impressioni Oh mamma mia Le primissime impressioni sono che non funziona Effettivamente se non switchiamo sul verde il bottone di accensione Difficilmente funzionerà Allora intanto muovere il mouse E vedere che la freccia non ti si fila È una sensazione quasi nuova Si ritorna quando avevo due anni circa Allora così la sensazione è di una lentezza È di una lumaca impressionante Quindi vediamo di migliorarne un po' i DPI Così li ho diminuiti Così sono come prima E così li ho diminuiti Perfetto quindi la modalità di prima era quella veloce Però molto probabilmente nelle preferenze di sistema Ci dovrebbe essere un qualcosa Per regolare la precisione e la velocità del mouse Allora Fai abitudine subito Attenzione non pensiate che sia difficile Non muovere il mouse Ed è anche secondo me meglio Non stare con la mano a tracciare le linee dell'oceano Per la scrivania No tu te ne stai con la tua mano Ferma una pallina e comandi Ecco già così è più È meglio perché la freccia è più veloce Quello che noto è che Se avete per esempio un monitor molto grande Oppure comunque 4K Dove magari dovete cliccare su un qualcosa di molto molto piccolo No questo mouse non fa per voi Perché o avete velocità di movimento O avete precisione con questo Non potete avere entrambi Mentre con un mouse tradizionale In base a quanto vi muovete veloci Scegliete se precisione oppure velocità Per il resto comunque l'aspetto del mouse Come ogni altro mouse Logitech Che sembra molto premium Tasto sinistro destro Rotella scorrevole Che si può anche cliccare a destra e a sinistra Bottone avanti e bottone indietro Sul pulsante laterale abbiamo questo bottone Che serve per regolare la precisione del mouse In poche parole vi fa andare la freccettina più veloce o più lenta E poi abbiamo il bottone glorioso Questo switch qui dove c'è scritto 1 e 2 Sarà il bottone che gli permette di passare al collegamento da un computer all'altro Uno sarà connesso tramite il suo ricevitore bluetooth L'altro tramite un'effettiva connessione bluetooth Quindi per esempio mettiamo caso che io l'abbia attaccato al mio portatile e al mio computer fisso Premendo questo bottone posso passare il controllo da uno all'altro in modo molto molto facile E questo più 10 punti perché io in questa scrivania avrò 2 se non 3 computer contemporaneamente Quindi questa cosa potrebbe tornarmi molto comoda L'idea di questo mouse mi piace ti ci abitui subito Forse continuo comunque a preferire un mouse normale O meglio un mouse ottico perché alla fine di mouse ottici si parla Però è un mouse che mancava alla mia collezione E sinceramente mi ci abituerò Mi ci sono già abituato in realtà Lo utilizzerò on my daily basis diciamo Certo io stesso quando avevo appreso che sarebbe stato un mouse diverso da tutti gli altri Perché ragazzi questo fatto che io lo muovo e la freccia rimane ferma Triggera sempre Considerate che comunque il suo costo di quasi 100 euro ce l'ha E quindi magari valutate bene prima di acquistarlo Detto questo ragazzi questa era la mia recensione Barra prime impressioni del Logitech MX Ergo Fatemi sapere se lo avete provato Potete addirittura specchiarvi sulla pallina Cioè cosa volete di più A parte gli scherzi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link ve lo lascio qui sotto giù in descrizione Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video E invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video E noi ci rivediamo in un prossimo video E noi ci rivediamo in un prossimo video Grazie a tutti